e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video anche oggi un video unboxing sto spacchettando un po alla volta le cose che mi sono arrivate dell'amazon prime dei roba che ho preso tutte insieme non è arrivata un po alla volta però ho spacchettato appunto un po la volta o delle cose abbastanza carine da farvi vedere un paio di cose due tre cose ora prima cosa partiamo da questo che non ho preso su amazon perché potete ben capire è un casco io i caschi vi consiglio ragazzi andate a provarli prima di acquistarli se li volete magari prendete a prendeteli anche su amazon ma prima magari andate in un negozio fisico a provarli e se vi va bene magari fate un confronto quei prezzi di amazon o su altri siti e provateli perché sennò c'è dovete poi darli indietro e con i caschi non è una bellissima cosa ho preso questo quindi questo casco jet vi dico anche il negozio da da beps se volete una bella sponsorizzazione ragazzi sono qua della beps ciao ragazzi dalla beps quindi era il casco più economico che ci avevano lì carino come casco un casco jet questo mi servirà per dei progetti per un progetto che ho e vi farò capire più avanti di cosa si tratta e per cosa mi servirà questo casco nella confezione c'è anche suo sacchettino mi è costato 40 euro non so se si trova anche su amazon non credo ma andate andate comunque vi ripeto i caschi prima di acquistarli su amazon così andateli a provare perché comunque molte volte i caschi poi non li vendo non li vende neanche amazon ma terzi e magari con i resi poi è un po un problema quindi io vi consiglio appunto di andarli a provare almeno prima e successivamente acquistarli poi altra cosa questa qua arriva da amazon è un prodotto amazon base fa produrre amazon per poi venderlo direttamente lui e sono degli stracci degli stracci micro fibra addirittura 24 gli ho pagati meno meno di 10 euro credo o comunque attorno ai 10 10 12 euro adesso non mi ricordo più però erano gli strani offerta 24 stracci sono 8 a 16 24 12 quindi 8 bianchi 8 blu e 8 arancione gialli consigliati per comunque le varie pulizie sia di casa ma potrebbero servire anche per pulire la moto comunque sono stracci micro fibra panni micro fibra un link se volete in descrizione e vi ricordo anche di iscrivervi al canale telegram perché questi ad esempio questo nell'amazon prime day ve l'ho consigliato e se non eravate iscritti vi siete persi l'offerta altra cosa questo che è legato all'ultimo pacchettino che è quello un po più interessante che magari darà anche il titolo al video è questo ho preso una 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 power bank da 10.000 mAh era anche questa in offerta questa qua questa marca qua è la una marca delle più più note ovvero la ho chi ho chi ho chi non so come pronunciarla comunque ho chi è una delle delle marche di power bank e vari accessori di elettronica diciamo che sta spopolando di più e io ho preso questo power bank davvero piccolino da 10.000 mAh davvero una cosa smart davvero piccola molto stascabile che adesso capirete subito di cosa mi serve nella confezione trovate anche la sua suo cavo di alimentazione per andarlo a ricaricare con un caricatore si va a ricaricare adesso non so se arriva già carico si è già abbastanza carico arriva con tre tre tacchette su quattro un power bank molto molto tascabile vuol dire non pensavo che era così piccolo ma sarà molto utile di questa misura qua per il prodotto che sta arrivando e che penso che darà il titolo al video ovvero questo questo qua che questo qua che è un prodotto che ho preso una cosa che ho preso principalmente per il lavoro visto che lavoro all'aperto adesso e avvicinandoci la stagione fredda ho voluto prendere appunto questo qua che è un gilet un gilet riscaldato molto molto semplice da tenere sotto i vestiti e che devo dire che potrebbe essere anche utile per la stagione invernale per chi va in moto e avere qualcosa di caldo sotto sicuramente poi andrò a testarlo vi farò vedere un po i test come andranno andiamo ad aprirlo ok adesso devo capire dove si inserisce la power bank ok vedete qua c'è in questa tasca questa tasca non c'è niente ok abbiamo presente due tasche ci sono presenti due tasche ok e in questa tasca c'è presente una un attacco usb dove appunto andremo a prendere un carino un power bank appunto questo è molto piccolo quindi e anche non è neanche molto molto ingombrante da tenere in questa taschettina per fornire appunto la corrente al nostro gilet riscaldato allora qua abbiamo presente poi due pulsanti dove andiamo ad accendere appunto il la parte davanti e la parte dietro adesso vediamo un po se funziona ok e da tenere premuto un po si tiene schiacciato e vedete che si accende il led luminoso questo qua è la parte avanti e questa è la parte dietro vedete così parte il riscaldamento adesso magari lo metto su per vedere se davvero riscalda è molto molto confortevole come bello bello attillato e da mettere magari sotto i vestiti va va molto bene quindi adesso vediamo aspetterò un attimo vedere se realmente riscalda oppure no poi nella confezione troviamo anche intanto che vediamo se si scalda il il gilettino troviamo anche questa sacchettina che sarà utile poi per per andare a lavare il nostro gilet qua ci sono poi le varie istruzioni ok di anche su come lavare il gilet quindi non potete sbagliare istruzione rimuove la power bank la porta usb ha un design isolato impermeabile si consiglia di lavare con una custodia protettiva in silicone che è questa ok lavato su un ciclo delicato in acqua fredda se lavare a mano il gilet deve essere riposto nel sacchetto questo per il bucato se lavato in lavatrice o asciutto linea stiratura secco e a bassa temperatura non asciugare in asciugatrice ma appendere il gilet dopo il lavaggio comunque vabbè è una cosa elettronica quindi cioè state attenti quando dovete lavarlo comunque qua ci sono i vari led allora così dovrebbe essere acceso ok quindi quando lampeggia vuol dire che è acceso medio così è basso e così è alto abbiamo vari livelli di temperatura quindi sul rosso è alto sul bianco è meglio e sul blu è basso intanto noi vediamo livello alto vedere se funziona qualcosa si sta già iniziando a scaldare qualcosina all'interno già è già bello caldo quindi dovrebbe funzionare poi vabbè qua c'ho su anche la tuta quindi non ho molto freddo però sto già iniziando a sentire qualche cosa quindi ragazzi adesso magari mi avvicino un po' allora dopo avere vedete qua che ci sono due led che sono quelli che appunto controllano allora così andiamo a spegnere tenendo premuto ok così vedete che è spento andiamo a riaccendere ok e si attiva sul livello alto comunque sta scaldando già abbastanza bene premendo premendo solo tenendolo solo premuto cioè premendo solo una volta andiamo su il bianco vedete anche da questa parte qua c'è il qua c'è il retro qua c'è il fronte qua c'è il retro qua è livello medio e qua è livello basso se noi riprendiamo un'altra volta andiamo sul livello alto ok quindi il gilet è anche abbastanza abbastanza semplice da utilizzare non è che ci vuole tanto però l'unica cosa che vi serve in più è una power bank che comunque ad esempio questa qua l'ho pagata 10 euro in offerta su amazon a livello di power bank ci sono sempre delle offerte su amazon se volete vedere qualche volta magari anche sul gruppo telegram vi metto anche molto volentieri delle offerte per questi prodotti ovvero le power bank perché sia per i viaggi sia per queste cose questi utilizzi qua sono a mio avviso molto molto utili quindi niente ragazzi questo prodottino qua secondo me adesso che viene freddo è molto comodo comunque per chi non lascia la moto non tiene ferma la moto e vuole magari anche andare a fare qualche giro col freddo o comunque usa la moto per andare a lavorare questo qua penso che sia un prodotto molto interessante molto utile visto che comunque sto sentendo che già sta scaldando molto bene quindi ragazzi lo consiglio lo testerò magari anche sul campo in moto o con un mezzo particolare che vi farò vedere presto e quindi niente ragazzi io vi ringrazio vi ringrazio sempre per la fiducia che date vi ricordo di iscrivervi al canale youtube se non l'avete ancora fatto visto che ho notato che l'80% di chi visualizza i video non è iscritto quindi se hai visualizzato il video vuol dire che ti interessa e sarei lieto che entri a far parte della famiglia del motociclista solitario quindi ragazzi ancora grazie e ciao ciao ciao